Amici che ci seguite da casa, c'è ancora incertezza nell'area riguardo alle condizioni meteo. Le previsioni davano pioggia in questa zona, ma per ora lo stadio è stato risparmiato. Certo, quelle nuvole minacciose all'orizzonte che sto vedendo non promettono nulla di buono. Comunque sia che piova o che splenda il sole, siamo certi che l'atmosfera sulle tribune resterà vivace ed allegra. Che stadio, pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Partita già in corso di svolgimento. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Io punto su Azzaro, il Begga può ricoprire praticamente qualsiasi ruolo offensivo. Dietro la prima punta sia sulle fasce che centralmente può diventare determinante in qualsiasi occasione. Certo, il segnale è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Tocco morbido. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. C'è la palla lunga, in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Modric. Recoverano il possesso del pallone. Ecco il tiro! Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Soltanto rimessa laterale qui. Bailey. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Grande prova di forza. Quest'errore potrebbe essergli fatale. Cerca il traversone. Pallone lungo in verticale. Scatta verso il pallone. Palla dentro per Hazard. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla in avanti verso il compagno. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Filtra la palla in profondità. Prova con la palla lunga. Palla tra le linee. Possibilità di tiro. Salva Jones. Che parata. Certo non un intervento di routine. Sembrava aver sorpreso il portiere. Ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Buona deviazione del portiere. Buon recupero anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Continua ad avanzare verso l'aria. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Maicon. Arriva nella tre quarti avversaria. Può cercare taglio in mezzo. Che grande parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Decide di sfruttare la fascia. Alla peggio nello scontro di forza. Ecco il traverso. Ci mette la testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Vede l'inserimento del compagno. E qui prende chiaramente l'avversario dunque punizione. Attenzione. Grande chance. Musa. E l'arbitro manda tutti a prendere un teccato. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatori. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui ha iniziato la partita. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande. Questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Nessun gol ancora 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Si ricomincia. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Hazard. Può provare il tiro. E la palla è entrata. Gli hanno lasciato un sacco di spazio. Errore gravissimo. E infatti sono stati puniti. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta giusta dove la voleva. E non ha dovuto fare altro che concludere a rete. 1-0 dunque. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Deccato in offside da Guardalini. Maikon. Ai ai. Stanno correndo rischi davvero inutili. Si libera la grande. Attenzione. Conclusione. E il pallone finisce in rete. Due gol in più. E partita saldamente nelle loro mani. Passo. Brutto intervento. Fuori tempo. Calcio di punizione. Difesa energica e decisa. Giuliano. Che botta. Conclusione davvero molto angolata. Cerca spazio. Situazione spinosa ma il suo intervento è stato providenziale. Toni Kroos. Scodella in avanti. Bale. Non può scettire. Non si fermano più. Ancora segno. Vantaggio di tre reti. E potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto. E ha segnato. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza. Ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Si riparte dal 3 a 0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Dunque rimissa laterale. Pallone in aria. Bell'intervento del portiere. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. E da lì potrebbe anche trovare la porta. E questa è ovviamente una buona opportunità per loro. Giuliano. C'è tutta l'azione del calcio in questo gol. Tutta l'azione del pallone. Tutta l'arte dei giocatori. Che gol pazzesco. E' un gol importante. Sono ancora vivi. Sono ancora vivi. Un'esecuzione per Benzema. Si esprime in un buon intervento. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. La mette al centro. Modric! Salva la sua porta. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Se ne va. Da lì può concludere. Può provare. Hanno trovato il gol. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione. E non ha mancato l'appuntamento con il gol. Si è inserito molto bene nello spazio. E ha concluso con freddezza. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande passica. Ordina per il tiro. E insaccano. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Vuole tirare. Benna parata. E ha fallito una buona occasione da gol. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. Occhio al tiro. E non è riuscito a trovare il gol. Era una grande occasione. Maicon. La metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Bale. Recupera un buon pallone. Manco fosse un difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione. Dimostra che è un attaccante davvero completo. Fallo. Nessun dubbio. Cambio di fronte. Cerca il numero. Nacio Fernandez. Di forza. Nacio Fernandez. Recupera un pallone importante. Palla in alto. Ci sarà rimessa laterale. Ci mette il fisico. E conquista il pallone. Può colpire. Ottimo. Dentadiro. Un momento del ruolo. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però va bene a provarci. colpisce. 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 Ha colpito benissimo la palla. Se è stato un po' più preciso sarebbe entrata. questo è più ampio. Isso è un po' piùodoxale. Fa logo. Hoci votre vuoi domani. Buongi. Faccio. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare in mista. Nacho Fernandez, preconquista la palla. Lungo passaggio in avanti. E sarà rimessa con le mani. Scodella in avanti, Benzema. Arriva Bale. Lancia il compagno in profondità. Occhio può andare, attenzione al tiro. Va in rete. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. A tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. E sono tre. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. Gioco, una palla lunga. Hanno già riconquistato palla. Bale. E l'arbitro chiude qui la partita. Certo l'allenatore non può essere soddisfatto di questa partita. Ha avuto qualche occasione la sua squadra.